Salve a tutti e bentornati a Medicina 5 MHz. A tutti noi è capitato di avere un problema di salute e di andare a cercare una risposta su internet. Siamo anche in ottima compagnia, infatti l'88% degli italiani davanti a un malessere cerca una soluzione sulla rete. È sicuramente importante che un paziente sia informato riguardo la propria malattia e riguardo una possibile terapia. Ma perché? Dottor Google non può aiutarci e soprattutto rischia di confonderci le idee. Beh, innanzitutto non tutte le fonti presenti in rete sono verificate. Poi se digitiamo un sintomo su internet ci uscirà una vasta gamma di interpretazioni, dalla più banale alla più complessa e c'è la tendenza ad ognuno di noi di focalizzarsi sull'aspetto che più interessa, distogliendoci così magari dall'informazione corretta. La verità è che per arrivare ad una diagnosi e poi ad una terapia è necessario mettere in atto una serie di passaggi che sono quelli che il medico compie durante una visita. Il primo è l'anamnesi, cioè il racconto del paziente di quella che è la sua storia familiare, la sua professione, lo stile di vita che conduce, che farmaci prende. All'anamnesi segue la visita medica, dove il medico utilizza i cinque sensi, gli stessi cinque sensi che io vi ho descritto nel primo appuntamento di Medicina 5MHz e che dovete andare a rivedere. Attraverso questi cinque sensi il medico può obiettivare il sintomo del paziente, dunque capire se è come gli viene riferito o se ci sono delle sfumature che può condurlo ad una diagnosi. Quindi immaginate che il dottor Google non potrà mai fare tutto questo, come anche non vi aiuterà nell'interpretazione della terminologia un po' complessa con cui a volte vengono rifertati gli esami radiografici. Ed anche non vi potrà dire se gli asterischi che appagliano accanto agli esami di laboratorio sono significativi di una patologia o meno. Ma quello che il dottor Google non potrà mai darvi è la relazione di fiducia che si deve instaurare fra medico e paziente. Un antico proverbio persiano recita più o meno così. Io curavo con il diritto, io curavo con la legge sacra, io curavo con la pianta, io curavo con la parola. Ed è proprio la parola la base del rapporto. Parola che non è semplice scambio di informazioni, ma è il luogo dove il medico e il paziente si incontrano e si alleano per il raggiungimento dell'obiettivo comune, la guarigione dalla malattia. Allora su Google andate a cercare qualcos'altro, per esempio lunedì prossimo andate a cercare una nuova puntata di medicina 5 MHz. Io vi aspetto!